Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e benvenuti a ETG Bologna. Il sindaco Lepore, cominciamo a parlare subito del nuovo limite di velocità a 30 km orari, è soddisfatto di come stanno andando le cose per Città 30. I bolognesi hanno rispettato i nuovi limiti, molti mi scrivono, ha detto questa mattina a margine di un'iniziativa, siamo disponibili a qualche modifica ma abbiamo seguito le linee guida del Ministero, ha detto ancora il sindaco Lepore, ai microfoni di Giuseppe Pilloni. Il sindaco Matteo Lepore sente il sostegno dei cittadini su Bologna, Città 30. Molti mi scrivono, spiega Lepore. Davvero stanno aumentando le persone che ci scrivono per segnalarci che magari avevano inizialmente un motivo di preoccupazione, di scetticismo, ma si stanno trovando in una città che sta andando ad una velocità più accogliente e più sicura. Molte persone che mi scrivono anche perché sentono una diversa situazione sotto casa proprio per il rumore. Molte persone che mi scrivono finalmente riesco a dormire. Ed effettivamente la situazione in città è una situazione nella quale i bolognesi stanno rispettando le regole, il limite. Voglio ribadire in questa sede che noi stiamo facendo le sanzioni in sei strade molto ben segnalate. C'è un pannello digitale che indica la velocità a cui si va. Quel pannello non fa le sanzioni, semplicemente informa. Successivamente le persone trovano un cartello che segnala la presenza della pattuglia e un centinaio di metri dopo c'è la pattuglia che eventualmente ferma le persone che dopo tutte queste segnalazioni non abbiano rallentato. Queste sei pattuglie sono esclusivamente nelle zone sensibili, quindi le sanzioni le stiamo facendo di fronte alle scuole, negli ospedali o in quelle strade ad alta incidentalità. Quindi stiamo seguendo i criteri del Ministero. Col Ministero però vi incontrerete, ci sarà per arrivare una soluzione unitaria? Noi abbiamo seguito le linee guida del Ministero, abbiamo avuto un finanziamento del Ministero. Come sapete si è anche visto in queste ore che il decreto che ci finanzia il progetto della cittadinanza è firmato dal Ministro Salvini in persona. Per cui siamo disponibili a incontrarci insieme a Lanci e a tutti i comuni italiani. Sono sempre dei più comuni italiani che portano avanti misure come questa, tanti comuni anche di centro-destra. Noi vogliamo collaborare perché l'obiettivo è salvare vite e migliorare la sicurezza stradale. Tutte le altre polemiche non ci interessano. È aperto a delle modifiche? Noi abbiamo detto che a vale del monitoraggio dopo queste settimane e questi sei mesi che abbiamo alle spalle, perché la cittadina è iniziata più di sei mesi fa, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e anche le valutazioni della nostra polizia locale siamo disponibili a migliorare il provvedimento. Quindi noi non abbiamo da questo punto di vista problemi a fare quello che serve per migliorare come sempre la viabilità in città. In queste ore si sta svolgendo anche il tavolo con i sindacati sul trasporto pubblico e siamo fiduciosi che si possono trovare delle intese per migliorare questo servizio che ha problemi non per la città 30 ma, come sanno bene i pendolari, ha delle criticità dovute ai cantieri. E dunque, come vedete, c'è un confronto, che speriamo sempre più confronto e non scontro, tra Ministero e Comune di Bologna, su cui è intervenuto qualche tempo fa l'ex sindaco Merola ed è stato molto duro. Noi lo rivediamo, rivediamo questo intervento dell'ex sindaco Merola e facciamo una riflessione. Ma a voi pare normale che dei ministri di una Repubblica intervengano su cosa fa un Comune ledendo continuamente l'autonomia del Comune. Siamo all'utilizzo più che strumentale delle cariche politiche. Gli interessi di parte ogni tanto dovrebbero fare i conti con l'interesse generale di una comunità, o no? Il principio enunciato dall'ex sindaco Virginio Merola a proposito dell'autonomia dei comuni e dei sindaci rispetto agli organi superiori, sovraordinati, fa tornare alla mente quello che è successo nel lontano 2003, circa 20 anni fa, quando un Comune democraticamente eletto, la Giunta Guazzaloca, che aveva nel programma di mandato il metro, la metropolitana, fu bloccato proprio sulla metropolitana dagli enti superiori, cioè dalla provincia e dalla regione. Presidente della provincia Vittorio Prodi, lo ricordiamo, presidente della regione Vascoerrani, che nonostante il metro fosse già finanziato e avesse ottenuto tutti i via libera possibili, fu appunto bloccato col TAR a suon di ricorsi e colpi di esposti. Ebbene, quella fu davvero una porcata nei confronti della città di Bologna e dei bolognesi che furono scippati di un'infrastruttura, pensate oggi cosa sarebbe Bologna con una linea o forse addirittura due linee di metropolitana. E visto che parliamo di storia, visto che in molti oggi parlano della Bologna 30 e ricordano episodi in cui i bolognesi si scagliarono contro a idee dell'amministrazione, salvo poi tornare indietro, ricordano giustamente la pedonalizzazione di Via d'Azeglio e ricordano giustamente i T-Days, i bolognesi sembravano contrari, poi una volta entrati in contatto con queste due novità si resero conto che erano cose buone. Ebbene, è giusto ricordarne anche forse altrettante, forse di più, in cui invece il Comune dovette fare retromarcia, e cioè ricordiamo il cordolo di Via Emilia Ponente, ricordiamo la pedonalizzazione di Via Volturno, ricordiamo la pedonalizzazione di Via Carbonesi. Questo per dire che la storia va ricordata sempre tutta al di là del colore politico. Continuiamo anche a parlare di viabilità, ma questa volta a far scoppiare il Casus Belli è una pista ciclabile tra Via Po e Via Degli Orti, che non facilita, anzi costituisce intralcio nei confronti dei clienti di una farmacia e dei pazienti di un vicino centro medico. Andiamo a vedere nel servizio di Simona Iannessa. Non c'è pace davvero per la viabilità bolognese, è proprio il caso di dire che ogni giorno a ben guardare ce n'è una nuova. Questa volta l'attenzione delle nostre telecamere si è concentrata sulla nuova ciclabile all'angolo tra Via Po e Via Degli Orti, proprio in corrispondenza della farmacia di Santa Maria delle Grazie. La pista, spuntata nello scorso autunno, non incontra però né il favore dei medici del vicino ambulatorio, né quello degli anziani clienti della farmacia costretti ad una sorta di gincana sulla porta d'ingresso, né tantomeno sta riscuotendo il favore delle persone disabili costrette, loro malgrado, ad intralciare la ciclabile con pedane e carrozzine per accedere al centro medico. La nostra sensibilizzazione è proprio dal fatto che vediamo soprattutto gli utenti anziani destabilizzati ulteriormente da questa pista ciclabile dove ovviamente fanno fatica a raggiungere anche gli studi medici qui di Via Degli Orti 62 perché la pista ciclabile passa addirittura sul passo Carraio dove spesso io per prima che ho una mamma paraplegica utilizzavo per fare scendere la carrozzina e quindi diciamo era insomma semplicemente proviamo a venirci incontro a capire insomma come poter risolvere un po' questa situazione perché comunque la farmacia è un servizio pubblico e i medici logicamente normalmente visitano persone anziane che hanno spesso fatica nella deambulazione. Essendo un servizio pubblico poi capisco che non è cambiato niente cioè capisco anche le difficoltà di creare dei parcheggi insomma la situazione rimane invariata insomma sono tantissimi anni che siamo logicamente in questa posizione però ecco vedo che la pista ciclabile ha destabilizzato ulteriormente poi non so se ci possa essere una soluzione. Cambiamo argomento ma torneremo ovviamente a parlare di viabilità nelle prossime edizioni del telegiornale e parliamo adesso andiamo con le immagini a vedere la protesta dei trattori che arriva oggi a Bologna anche qui in qualche modo parliamo di viabilità perché questa mattina lo state vedendo i trattori sono arrivati da ovest e da nord a Bologna con due cortei appunto centinaia e centinaia di trattori diretti verso la sede della regione Emilia Romagna prima la fiera piazza della Costituzione poi diretti verso la sede della regione in via Aldomoro per protestare tra appunto i motivi della protesta la cosiddetta carne sintetica e la farina di grillo che sono due ipotesi al vaglio come sapete della Unione Europea che sono due novità che potrebbe proporre appunto l'Unione Europea ebbene in questi minuti in queste ore si sta svolgendo la protesta saremo ovviamente più precisi nelle prossime edizioni del telegiornale quella di stamattina cambiamo argomento potrebbe essere l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi la donna uccisa dall'ex fidanzato ad agosto 2022 in via dell'arcoveggio l'accusa ha chiesto l'ergastoli la sentenza potrebbe essere pronunciata a breve vediamo voi siete chiamati a decidere se un presunto innocente è davvero innocente o se invece è come questa difesa ritiene colpevole delle accuse che a lui sono state mosse e di tutte le aggavaranti che tale accusa circostanziano a parlare è l'avvocato Petroncini uno dei legali di parte civile in quella che potrebbe essere l'ultima udienza in corte d'assise a Bologna del processo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi la 57enne uccise il 23 agosto 2022 con calci, pugni, martellate, colpi di panchina davanti alla sua casa in via dell'arcoveggio imputato è l'ex fidanzato Giovanni Padovani anche oggi presente in aula accanto al suo avvocato sempre con lo sguardo fisso verso la corte per lui la procura nella requisitoria pronunciata nella precedente udienza ha chiesto l'ergastolo parlando di un crimine orribile perché Alessandra non è stata solo uccisa ma Padovani voleva cancellare i suoi connotati la sua bellezza anche nell'udienza di oggi erano presenti la sorella e il nipote di Alessandra e nel corso della mattinata in aula è arrivata anche la vice sindaca di Bologna Emily Clancy dopo le conclusioni delle parti civili ci sarà la ringa difensiva dell'avvocato Gabriele Bordoni legale di Padovani poi i giudici si chiuderanno in camera di consiglio e pronunceranno la sentenza attendiamo tutta la serie delle discussioni finali di tutte le parti quindi anche il tuo avvocato ha precisato che sei sempre stata qui presente sì sono qui per darle giustizia ma sempre mi ha andato avanti questa cosa giusto che sia così è stata uccisa brutalmente e la mia presenza è importante per il rispetto di mia sorella la cronaca due anziane aggredite per strade rapinate in poche ore a Bologna un episodio è successo ieri pomeriggio in zona Safi l'altro stamattina in Bolognina una pensionata di 81 anni presa a botte e rapinata tanto da finire al pronto soccorso da tre banditi che l'hanno assalita in pieno giorno in via Pasubio un'altra anziana scippata della borsa alle 10 del mattino in via Tibaldi non si fermano i reati ai danni delle persone anziane vittime non solo di truffe a giri in casa ma anche di aggressioni per strada l'episodio più volente è quello avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Pasubio zona ospedale maggiore la vittima stava passeggiando da sola quando è stata avvicinata e accerchiata da tre giovani vestiti di scuro l'hanno strattonata per portarle via la borsa e visto che lei ha cercato di trattenerla l'hanno colpita con una botta in testa riuscendo alla fine a scappare con soldi, documenti e effetti personali della donna la 81enne è stata soccorsa da alcuni passanti è intervenuto anche il 118 che l'ha portata al vicino ospedale maggiore per accertamenti sul posto è arrivata in fretta anche la polizia che ha raccolto le testimonianze degli stessi passanti e dell'anziana i tre rapinatori erano fuggiti in direzione della via Emilia ma le ricerche per ora non hanno dato esito anche il secondo episodio avvenuto in pieno giorno nella mattinata di oggi in via Tibaldi in piena Bolognina vittima ancora una volta una signora anziana avvicinata ed è rubata della borsa con dentro denaro, documenti e telefonino lo scippatore che in questo caso era da solo si è poi dato alla fuga correndo verso la zona del mercatino di via Albani dove è riuscito per il momento a fare perdere le proprie tracce con le immagini torniamo alla cronaca di questi minuti e andiamo a vedere cosa sta succedendo sotto le due torri ecco qui sotto la Garisenda perché oggi sono arrivati i container e vengono posizionati in particolare i container attorno alla torre, alla torre Garisenda sul lato di Palazzo dei Drappieri è un lavoro abbastanza delicato per costruire la cintura a protezione come sapete della torre per sicurezza il lavoro in alcune fasi delle lavorazioni per periodi di circa 10-15 minuti c'è il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato per intenderci davanti alla libreria Feltrinelli vedete anche la curiosità dei bolognesi e dei passanti i pedoni potranno passare comunque in galleria Acquaderni e sul posto ci sono comunque i movieri e la polizia locale per fornire indicazioni ai pedoni vedete proprio in queste fasi con le riprese del nostro Jacopo Alpi il posizionamento di questi container la pagina sportiva con il basket terzo successo consecutivo fra campionato e Coppa per la Virtus si ferma invece la fortitudo a 100 Rita Mandini vittoria esterna per la Virtus a Varese in una prova non facile ma di carattere per la squadra di Luca Banchi un successo che consente a Levunere di mantenere il secondo posto in classifica alle spalle di Brescia e di agganciare anche Venezia sconfitta da Tortona 81-69 risultato finale con i 20 punti di Belinelli mentre l'ex Manion dall'altra parte si è fermato a 16 terza vittoria di fila fra campionato ed Europa il prossimo appuntamento è giovedì con la trasferta turca in Eurolega contro il Fenerbace la fortitudo perde a 161-57 ma i problemi fisici hanno condizionato la gara della squadra di Caia si vista un po' le difficoltà che abbiamo avuto senza Radori e senza con Frimana con 39 di febbre fino a stamattina e con Bolpin che era anche lui un po' in dubbio e infatti sicuramente non ha fatto una partita non positiva per quello che ha fatto per questa difficoltà dovevamo cercare di tenere lì l'avversario più a lungo possibile poi giocarci tutte le carte alla fine e dal punto di vista difensivo siamo riusciti a farlo molto bene è chiaro che dal punto di vista offensivo le percentuali sono molto penalizzanti per noi prossimo appuntamento per la fortitudo domenica al Paladozza contro Cividale era questa ultima notizia il nostro telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi auguro un buon pomeriggio e tv è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda